Sono in giro Stiamo in giro Siamo in giro Dando la partita in giro Il primo match va a giro Ma tutti i ragazzi sono giro Stiamo per commentare Chi sono? Chi siete amico? che usa un attimo pericolo prima contro il draft, ha un altro posto bravo e ha la finita e non lo fa nella slot, la carnage, mi sono capace, non lo fa, 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 non lo fa… Allora, proviamo a fare la punta. Vediamo che comunque c'è una posizione neutra, e se non mi è spiegato molto. Un attimo ponio. Come lo vedete questo matcho? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.